Attività di supporto scolastico con anche importanti momenti di condivisione e di sport. Sono pronti a partire le nuove attività che vedranno protagonisti bambini a Pagani che aderiranno al centro polivalente. L'intento dell'azienda consortile AgroSolidale è quello di supportare i genitori anche con il servizio pomeridiano di doposcuola. Le cooperative che appunto gestiscono il centro polivalente minori del nostro comune inizieranno invece le attività tra virgolette autunnali invernali che si svolgeranno da lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 quindi per 4 ore al giorno è importante farlo anche sapere anzi ne approfittiamo pure per fare un appello farlo sapere saranno coinvolte prioritariamente in attività di supporto scolastico ma non solo quindi innanzitutto troveranno qui presso il centro sociale degli educatori professionisti che li supporteranno in quelle che sono appunto le attività scolastiche di vari ordini a secondo poi dell'età ma poi parteciperanno anche a tutta una serie di ulteriori attività aggiuntive che via via si appunto alterneranno e che saranno innanzitutto concentrate sul recupero della conoscenza del nostro territorio che è importante che questi bambini conoscano attraverso varie possibilità anche visite all'interno della città anche passeggiate e non solo conosceranno meglio la loro città ma poi tutta un'altra serie di attività a volte appunto alla socialità e al recupero dell'amicizia, della conoscenza, dei valori, della solidarietà e insomma sicuramente un buon auspicio per ritornare quanto più possibile ad una vita normale soprattutto per chi più di tutti gli altri ha sofferto di questo lungo periodo di chiusura che era già un progetto di Agro Solidale dello scorso anno sarà attivo dal lunedì al venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 le iscrizioni le avremo sempre aperte ovviamente andranno in coda magari eventualmente e quindi ci sarà un ricambio eventualmente continuo di ragazzini quindi noi riceviamo al segretariato sociale il martedì e il giovedì pomeriggio ed il lunedì mattina, il mercoledì mattina tutti i genitori che sono interessati a presentare domanda in modo tale da poter iscrivere i propri figli a centro polifunzionale il pomeriggio sarà garantito loro attività di doposcuola, recupero scolastico e tutte quelle che sono le attività di condivisione, attività pomeridiane e anche attività sportive in questo modo cerchiamo di supportare le famiglie e di dare sempre più servizi ai ragazzi figli di questo nostro territorio e lo diciamo anche con un pizzico di orgoglio e di vanto perché finalmente Acrosuridele riesce a costruire reti e servizi da dare alla popolazione quindi iscrivetevi